dimostrali che non sei colpita dalla sua mancanza di interesse e guarda come ti cerca salutiamo Anna Grimaldi perché se una persona ti manca di interesse, se un uomo o se una donna ti manca di interesse e tu, salutiamo anche Iva, Iva Lex ricordo tra l'altro che chi volesse fare una piccola donazione al canale può farla cliccando sul dollarino, saluto anche su Tug chi volesse dare un sostegno al canale con un abbonamento live può andare nella sezione abbonati e cliccare sul tastino abbonamenti chi invece volesse partecipare ai miei seminari che faccio su questo canale lunedì e giovedì o alle 18.45 ma poi restano ovviamente indifferita, basta che vi abbonate all'abbonamento base quindi l'abbonamento base deve partecipare al seminario dove i temi vengono trattati in modo sistematico, preciso e con tutti i riferimenti ricordo ancora che chi volesse fare domande in chat deve essere abbonato o deve fare una donazione anche solo di quello che vuole, altrimenti non rispondo alle domande per dare ovviamente un giusto privilegio a chi si abbona rispetto a chi non è abbonato, a chi fa donazioni, a chi non fa donazioni quindi chi non ha abbonamento e non fa donazioni è inutile che faccia domande perché non rispondo allora veniamo quindi al tema dimostrali che non sei colpita o colpito diciamo dalla sua mancanza di interesse e vedi come ti cerca e come ti segue allora qual è il concetto fondamentale? beh c'è una cosa da introdurre la nostra mente allora immaginate di dover fare un viaggio immaginate di dover fare un viaggio e di andare che ne so, di fare un viaggio per andare in un paese lontano e fermarvi lì per un tempo abbastanza lungo che cosa portate nella valigia? tutta la merda che avete a casa, le cose inutili, i sacchetti della spazzatura cioè dice devo buttare via la spazzatura ma la mettiamo in valigia e la vado a buttare via a New York perché casomai lì ci sono i cassonetti che funzionano meglio soltiamo Nadia Blancato assolutamente non funziona in questo modo nella valigia mettereste le cose più importanti nella valigia mettereste le cose che vi danno più come dire mettereste le cose che vi danno sicuramente che vi danno sicuramente che vi sono utili insomma ecco la nostra mente è esattamente come fosse una valigia la mente è come una valigia bisogna portarsi dietro solo il meglio non mettete mai nella valigia le cose inutili la vita è quindi un viaggio le relazioni sentimentali sono un'avventura e l'ideale è affrontare questo viaggio con un bagaglio più leggero possibile ma ci devono essere tutti i pensieri che devono servirci ricordo ancora vedo che c'è qualche domanda in chat o qualcuno che fa delle cose chi vuole fare domande deve fare una donazione o deve essere abbonato al canale lo ripeto altrimenti non rispondo alle domande quindi giustamente chi è abbonato ha diritto deve avere qualche diritto in più rispetto ai non abbonati quindi gli abbonati e chi fa una donazione al canale può fare domande agli altri non rispondo e se volete diciamo fare i seminari invece l'abbonamento è l'abbonamento base dove ci sono i seminari del lunedì e del giovedì che sono molto utili tratto gli argomenti approfonditi in modo schematico ingegneristico diciamo in questo momento stiamo trattando il mentalismo il barmo statement l'effetto forest nella comunicazione ipnotica eccetera eccetera allora quindi dobbiamo affrontare il viaggio della vita e dobbiamo e dobbiamo diciamo e dobbiamo raggiungere dei risultati per fare domande o tramite abbonamento o tramite donazione una domanda cliccando sul tastino col dollarino che vedete qua sotto donazioni c'è un dollarino nella chat cliccate lì se volete fare una donazione se volete fare invece l'abbonamento basta che andate nella home page e cliccate e cliccate sul tastino col dollaro allora quindi andando al discorso quindi la vita è quindi un viaggio dove tutte le cose utili di per sé sono leggere perché l'ottimismo la fiducia in se stessi l'autostima sono cose leggere che ci serviranno per conquistare ci serviranno per sedurre mentre le cose inutili sono tutti i veleni mentali la negatività il malcontento la gelosia la possessività è come portare la rumenta ma chi di voi andando in vacanza pensate andate in vacanza una settimana al mare e anziché portarvi le cose utili i costumi da bagno che ne so il come si la crema per il sole vi portate sacchetti di spazzatura che non avete buttato via a casa vostra magari pesce marcio vi portate via queste cose qua per buttarli poi nel sacchetto dell'immondizia della rumenta del mare quindi nell'esistenza di ognuno di noi ci sono almeno tre cose di cui dobbiamo liberarci se vogliamo essere felici la prima sono le persone negative le persone negative dovete buttarle nel sacchetto della rumenta c'è poco da fare poi anche le persone e le situazioni energeticamente tristi le persone che ci lasciano insoddisfatte e quindi le persone che come dire ti danno indifferenza le persone che quelle lì devi dimostrarti che non te ne frega niente le persone lamentose ma anche le credenze limitanti e questo è un altro punto fondamentale devi liberarti anche delle credenze limitanti che sono tutte le cose che credi negative su te stesso perché ti faranno diventare negativa imparare a riconoscere diciamo le persone negative e sarebbe facile perché ci sono un sacco di indizi il problema è che non ci dobbiamo innamorare di persone negative quindi se tu inizi a innamorarti di persone di merda fondamentalmente beh farai un viaggio di merda farai o avrai una vita di merda ora la vita se tu la prendi nel modo giusto certo è come dire ci saranno dei problemi che dovrai affrontare perché diciamoci la verità siamo in un purgatorio no non siamo nel paradiso siamo in una sorta di purgatorio dove ci sono dei problemi di qualunque natura no ci potrebbero essere dei problemi economici problemi di salute insomma in tutte le persone non c'è una persona che non ha problemi e quindi i problemi vanno affrontati ovviamente perché siamo in un purgatorio ma non facciamo diventare questo purgatorio un inferno dove ci sono solo problemi perché quando noi ci focalizziamo su una persona la nostra vita la nostra vita deve diventare un inferno deve diventerà un inferno non ha senso e quando abbiamo scartato una persona che abbiamo capito che insomma non si può cavare il sangue dalle rape se una persona come dire non è non è non ti dà considerazione non ti dà stima ti tratta come se fossi come dire l'ultima ruota del carro una ruota di scorta di quelle come dire di quelle negative devi levartela dai coglioni perché nel momento in cui te la levi dai coglioni viaggi più leggera perché nella tua valigia non ci sta tanto eh ragazzi se nella valigia se riempi la valigia di sacchetti di rumenta nella valigia non ci potrai mettere i vestiti le cose belle le cose che ti servono perché è piena già di è piena già di rumenta e quindi essendo piena di rumenta non gli puoi mettere altro quindi i benefici che possiamo trarre tra virgolette da ripulire la nostra mente e la nostra vita dipendono diciamo proprio dalle azioni che facciamo e quindi dobbiamo smetterla di essere colpiti quando una persona non ci dà interesse quando una persona si feca i cazzuoli dobbiamo trattarla come tratteremo un un sacchetto della rumenta lo lasciamo lì e lo buttiamo nella nella monnezza nel cassonetto quindi dobbiamo iniziare a fare spazio e le persone che poi hanno una potenzialità perché poi ci sono qua due tipologie ci sono persone che avrebbero un valore e magari noi ci siamo comportati male perché dobbiamo tenere anche presente questo talvolta le persone si allontanano o non ci danno considerazione perché noi ci siamo comportati male nel senso che ad esempio abbiamo saturato i canali delle emozioni non siamo stati in grado di dare le giuste emozioni nel frattempo ricordo mettete un like ci sono 120 persone collegate solo 20 like mancano 100 like quindi mettete un like che il like se seguite il video e vi piace ha la funzione di far girare l'algoritmo di youtube che fa girare il video quindi poi lo farà girare poi su youtube quindi mettete un like che tanto non vi costa assolutamente nulla e basta cliccare sul pollice in su quindi allora liberarsi delle persone negative è un punto fondamentale perché tenete presente che una persona che non ti dà stima e considerazione è di fatto una persona negativa e se noi trascorriamo se la nostra mente viene focalizzata la maggior parte del tempo su persone negative queste avranno un'influenza su di noi che ci rendiamo conto meno andranno a modificare il nostro modo di pensare a modificarli in modo negativo perché avremo pensieri negativi nella nostra mente i nostri comportamenti e inizieremo a creare delle credenze nefaste delle credenze negative quindi dicevo ci sono due tipi di persone ci sono quelle che hanno delle potenzialità e magari noi ci siamo comportati male nel senso che non abbiamo dati emozioni allora queste possiamo recuperarle salutiamo gambino queste qua possiamo recuperarle mentre invece le persone che non c'è niente da fare tipo persone sposate libertini conclamati persone che hanno una visione della vita completamente diversa dalla nostra questa tipologia di persone qua è inutile non possiamo cavare il sangue dalle rape questa tipologia di persone dobbiamo levarci dai maroni quindi lasciare lasciarli nel sacchetto della rumenta e liberarcene liberarcene cosa significa non è che li buttiamo fisicamente nella spazzatura ovviamente ma liberarsene significa prenderne prendere le distanze prendere le distanze emotive da quella persona non permetterle di farci condizionare non permetterle di innamorarci noi dobbiamo imparare a gestire l'innamoramento l'innamoramento è un punto fondamentale e smettetela una volta per tutte di credere alla morca nulla amata amar perdona perché la morca nulla amato amar perdona non funziona non funziona non funziona assolutamente amorca nulla amata amar perdona è una puttanata galattica che ha detto sto coglione tra virgolette in questo caso di Dante Alighieri perché tu puoi amare chi cazzo vuoi puoi amarlo anche tutta la vita ma non funziona non funziona te lo piglierai in quel posto te lo piglierai nel culo non serve a niente non serve assolutamente a niente un saluto alla nostra Green Apple grande Green Apple e poi salutiamo Francesca quindi non serve assolutamente a niente a morca nulla amata ma perdona sto cazzo sto cazzo non funziona se no io a quest'ora sarei già amato da Kate Middleton no da Kate Middleton starei già a Buckingham Palace starei già lì a Buckingham Palace perché se bastasse amare io che mi amo anzi avrei già amato la regina Elisabetta nel frattempo che è rimasta vedova perché teniamo presente questo la regina Elisabetta è rimasta addirittura vedova per un periodo prima di schiattare è rimasta vedova per un periodo io intensamente ho amato intensamente ho amato la regina Elisabetta e a questo punto avrei fatto il matrimonio perché lei era vedova e poteva tranquillamente risposarsi avrebbe sposato me e sarei magari diventato re al posto di quel minchione di Carlo a quest'ora sarei diventato re al posto di quel minchione di Carlo perché sarei stato il principe consorte forse non lo so o comunque sarei se non fossi diventato re sarei comunque stato il padre putativo di Carlo diciamo così sarei stato il padre del re padre virtuale del re perché diventavo padre di Carlo a questo punto e invece non funziona non funziona io non non posso non posso diciamo non importa non c'è niente da fare nella voce sei in ritardo rispetto al video e vabbè ascoltate in ritardo sarei stato il principe il principe Maxime sarei stato oh buonasera da giovani che dice Gineppo secondo Kate in fondo ti ama Kate in fondo in fondo peccato che non mi conosce neanche salutiamo anche Mirami e invece quindi non funziona perché io non ho sposato la regina Elisabetta e credetemi io ho amato ok io ho amato in profondità la regina Elisabetta e lo sanno tutti la prendevo sempre come esempio era per me un esempio fantastico eppure io l'ho amata intensamente e lei non mi ha fidato neanche non si è sposata con me e non ha fatto niente quindi la morte non l'amata ma perdona non funziona tu puoi tu puoi amare in tutti i modi una persona ma questo non serve non è quello non è quello il meccanismo che farà sì che tu sarai riamato ebbè carampano no ma quest'ora sarei a Buckingham Palace Befana quindi tenendo presente questo quindi è inutile che vai a sarei re massimo esatto è inutile che vai a fare a dire a fare e disfare non serve un cazzo è importante ma noi dobbiamo mantenere sempre una dose di ottimismo e una dose di autoironia perché fa bene a noi stessi e nuoce alle persone negative perché una caratteristica delle persone negative è che solitamente ne sono sprovviste questo è un punto fondamentale le persone negative diciamo non vanno sottovalutate perché ci danno un insegnamento significa e questo è un punto fondamentale ovviamente anche cercare assiduamente una persona non serve a niente perché dai un segnale alla parte logica le cose cioè bisogna elaborare delle strategie ma è l'ossessione che non va messa perché se tu ti ossessioni di una persona e sei ossessivo sono quelle persone che ad esempio fanno sempre le stesse domande ossessivamente chiedono queste cose non è che la persona arriva da sola perché te la manda Gesù bambino la persona non arriva da sola perché te la manda Gesù bambino devi fare delle cose ma non ossessivamente cioè più noi siamo ossessionati da un'idea meno la realizzeremo come dire meno la realizzeremo per un semplice fatto che non c'è verso non c'è verso la nostra parte logica diciamo la nostra parte emotiva volevo dire la nostra parte emotiva volevo dire inizierà a nutrirsi del negativo anziché del positivo e quindi questo è un punto fondamentale allora le persone negative non vanno sottovalutate quindi perché possono essere un insegnamento ma possono scatenare dentro di noi un malcontento una rabbia sottrarci il buon umore e quindi mai mai farci sottrare il buon umore tenete presente iniziate a prendere un cartello anche fatto a mano se lo fate col computer è meglio e appiccicatelo sull'ingresso se avete una casa ma anche se dormite sotto il ponte potete appiccicarlo sull'ingresso del ponte diciamo ma se non dormite sotto il ponte e avete una casa diciamo con una porta scrivete vietato l'ingresso ai tristi e quindi solo persone allegre solo persone ironiche solo persone autoironiche questo è un punto fondamentale detto questo ricordo che se volete fare una domanda dovete fare una donazione al canale dovete fare una donazione al canale e se volete se volete invece seguire i miei seminari su questo canale dovete fare l'abbonamento base perché con l'abbonamento base adesso in questo momento sto facendo l'effetto forer sto facendo il mito model cioè tutte le tecniche di mentalismo il diciamo rainbow reuse tutte cose che sono utili per diciamo ottenere dei risultati nella nostra vita se non volete proprio fare niente perché siete catramiste o sciampiste almeno mettete un like che non vi costa nulla allora quindi questo è un po' il punto fondamentale quando qualcuno non ci dà quando qualcuno non ci dà attenzioni diciamo così dobbiamo assolutamente far vedere che ce ne sbattiamo altamente la minchia che ce ne sbattiamo altamente il cocomero le nostre energie ragazzi sono preziose e non possiamo disperderle con persone demotivanti tristi ansiose che ci danno negatività non ha nessun senso questo le persone negative sono grandi divoratrici di energia sono dei vampiri energetici e dobbiamo tenere presente questo che maggiore energia sperperiamo con queste persone meno ne avremo per trovare per trovare la persona giusta e poi tenete presente un altro fatto fondamentale che l'amore non si può mendicare voi siete dei mendicanti d'amore siete dei pezzenti non soltanto pezzenti diciamo fisicamente cioè economicamente che sarete pezzenti anche ma siete anche pezzenti d'amore perché andate a dimenticare l'amore cioè andate a mendicare l'amore andate a mendicare l'amore quindi siete dei mendicanti d'amore no? c'era quella canzone di Andrè che diceva che diceva come possiamo dire i mendicanti di vista era la canzone che si chiamava l'oculista che diceva che erano i mendicanti di vista e quindi l'amore l'affetto e l'amicizia non si devono mendicare ma devono nascere spontaneamente dal cuore devono nascere spontaneamente dal cuore ed essere offerti e ricevuti però con gioia e generosità per questo è salutare salutare diciamo per questo è salutare imparare a circondarti di persone di persone con le quali ti senti bene di persone che ti danno attenzione che ti danno stima e questo è il concetto e come dice Patrizia Perotti pensa che sei un re che non sei un mendicante ma devi agire da re perché se agisci da mendicante da pezzente vuol dire che sei un pezzente un mendicante e quindi questo è un dato di fatto dovete tenere presente questi fatti fondamentali un'altra 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 cosa che io dico sempre ogni tanto ma dovete tenerlo presente no anche le persone che ti fanno che ti rubano il tempo che ti fanno perdere tempo ci sono persone che ti fanno veramente perdere tempo perché ma sto gambino è un portagliella che vuol dire ti blocchi dove mi blocco ci avrai un wifi vecchio di 5.000 anni gambino che lo fai andare lo fai andare ancora accitrato il tuo wifi gambino gambino lo fai andare accitrato il tuo wifi allora su quindi dobbiamo tenere presente questo fatto no dobbiamo tenere presente questo fatto impariamo a a riconoscere le persone che ci fanno perdere tempo imparate a riconoscere le persone che ci fanno perdere tempo e quindi è appunto la connessione dati ma se c'hai la linea anziché prendere delle linee telefoniche come si deve prendi delle linee telefoniche dello zimbabwe per pagare di meno prendi la cioè la compagnia dello zimbabwe e la compagnia dello zimbabwe non ti fornerà una buona connessione dati vatti a prendere una compagnia telefonica decente un 5g non lo so qualcosa è un 4g plus qualcosa di 5g non c'è ancora ma se prendi la linea telefonica dello zimbabwe prenderà bene in zimbabwe ma in italia piglia male allora quindi dobbiamo tenere presente questo e poi anche le persone provocatrici le persone che rompono i coglioni e ecco le persone che non ti danno niente qual è il modo migliore per difendersi da queste cose il modo migliore per difendersi è ignorarli ignorarli devi applicare una legge fondamentale che è la legge che utilizzano diciamo nello spettacolo no niente pubblico niente spettacolo perché le persone negative nefaste tu non devi non devi dargli attenzioni non gli devi dare attenzioni non li devi prendere in considerazione devi trattarli come tratteresti un disco rotto è un qualcosa che non funziona e poi un'altra categoria di persone che secondo me sono quelle che nelle relazioni sentimentali sono ancora peggio sono le persone gelose e possessive le persone gelose e possessive queste vanno scartate è inutile che speri di trovare una persona gelosa che non sarà più gelosa diventerà uno stalker diventerà un rompicoglioni ti annullerà la vita sarà sempre lì a rompere il cazzo e dove vai e cosa fai e dove sei e con chi sei e vaffanculo porca tro eh non lo so come fai ad avere a che fare con persone gelose che veramente sono un cancro no per la società ma anche gli invidiosi ovviamente ma i gelosi sono una cancrena per la società gli invidiosi poi gli invidiosi poi godono diciamo dell'insuccesso altrui per cui portano pure iella le persone invidiose portano pure iella diciamo che poi gli invidiosi se a te ti va bene una cosa c'è avuto culo se ti va male una cosa sei un coglione e questo è no cioè come dire è come l'avvocato no che dice e vede la pratica del cliente dice qua ce lo facciamo ah qua invece ci fanno no qua ti fanno qua ce lo facciamo qua ti fanno ah qua ti fanno qua ce lo facciamo dice ma perché quando si tratta di metterlo diciamo lo mettiamo in due quando si tratta di prenderlo lo piglio solo io è questo eh no quindi dobbiamo qui ce li facciamo qui ce li facciamo e qua ti si fanno eh come dire e quindi le persone invidiose sono così quando c'è da prendersi un merito se lo pigliano pure loro anche se non c'entrano un cazzo quando c'è da eh come dire da eh pagare impegno devi pagarne tu perché loro non c'entrano niente quando c'è un danno eh quindi levatevi dai coglioni queste persone qua e l'unico modo per difendersi è non coinvolgersi ma dobbiamo dare forza alla nostra energia emozionale e non dobbiamo veramente provate a fare questo e vedrete che ignorando queste persone facendo vedere che non ti toccano assolutamente vai a diciamo a scardinare diciamo una situazione del genere non vai a distruggerla e quindi eh tenete presente questo fatto no anche le persone sempre incazzate col broncio tenete presente che vox populi vox dei no eh gente allegra ce l'aiuta circondatevi di persone che tendenzialmente sono allegre e le altre persone levatevi del coglione ma anche i criticori le persone che giudicano no quelle che giudicano te su quello che fai ti giudicano sulle cose che loro dove loro sono dei falliti dove loro sono delle nullità vengono a giudicare te come se uno che ha un canale youtube che appena creato con tre iscritti viene a dire a me come cazzo vanno fatti i video perché lui lo sa e se lo sapesse diciamo avrebbe un milione di iscritti no io posso accettare il consiglio da un canale con un milione di iscritti ma da uno che ha mille iscritti come dire di piscio in culo detto in parole volgari non lo sto neanche a sentire quindi dobbiamo tenere presente che i consigli dobbiamo anche accettarli se provengono da persone che sono più brave di me e che hanno dimostrato palesemente di essere più brave di me allora posso accettare un consiglio no cioè come dire se no se tu accetti un consiglio da uno che non sa neanche scrivere in italiano che cazzo me ne frega di accettare un consiglio da uno che non sa neanche sulla lingua italiana da uno che manco sa scrivere in italiano quindi queste cose vanno prese in considerazione quindi dobbiamo imparare a mettere di stacco dobbiamo imparare ad allontanare queste tipologie di persone quindi vanno levate dai coglioni questo è un dato di fatto e quindi anche a livello non verbale quando hai a che fare con una persona di questo genere vi do un suggerimento fantastico che solo questo suggerimento che vi do varrebbe una donazione al canale pezzenti che non siete altro oppure un abbonamento anche un abbonamento live da un euro pezzentoni che non siete altro quindi andate a fare questo abbonamento fate una donazione pezzari pezzari andate in giro con la pezza al culo no a parte di scherzi basta che fate un abbonamento o qualcosa se volete a meno mettete un like che lì non spendete niente però allora come fate quando avete a che fare con questa tipologia di persone come fate a fargli vedere che a livello non verbale senza neanche senza neanche dire una parola senza neanche dire una parola come fate a fargli capire che a voi di loro non ve ne frega assolutamente niente bene quando siete con loro guardate l'orologio e sbadigliate guardate l'orologio sbadigliate poi guardate l'orologio e gli fate uno sbadiglio sulla faccia magari se avete anche l'alitosi gli fate pure uno sbadiglio senza mettervi la mano davanti alla bocca così lo mandate a stendere diversamente con la vostra l'alitosi cioè sbadigliate guardate l'orologio poi gli fate un bello sbadiglione sulla faccia e questo analogicamente capirà senza che voi dite niente che di lui non ve ne frega assolutamente niente che di lui non ve ne frega assolutamente niente e questo perché è inutile dire di me di te non me ne frega niente sbadiglio guardate l'orologio e sbadiglione sbadiglione se volete fargli educati sbadigliate con la mano davanti alla bocca se proprio volete far vedere a sfregio diciamo così trattarlo proprio a sfregio gli fate uno sbadiglio diciamo senza mettere la mano davanti alla bocca oppure vi consiglio questo un altro consiglio che vale assolutamente vale ancora di più quindi anche voi che siete pezzenti anche che voi che siete barboni dovreste abbonarvi al canale almeno con l'abbonamento base anche voi che siete pezzenti anche voi che siete barboni almeno fate una donazione perché vi do un o mettete un like perlomeno vi do un altro consiglio molto utile che è quello di diciamo ruttare fategli un rutto sonoro quando siete davanti a questa persona che vi parla potete farlo magari bevendo che ne so un po' di coca cola la coca cola fa male io non vi consiglio di bere la coca cola perché fa male ma un sorsetto con un sorsetto uno tre o quattro rutti li vengono fuori e di fatto un bel rutto sonoro mentre vi parla e poi ve ne girate e vedete come reagisce vedete come reagisce quindi in questo modo analogicamente analogicamente vi dimostrate che non avete nessun interesse nei suoi confronti quindi questi sono due consigli preziosissimi o guardare orologio e sbadiglio o rutto rutto sonoro mi raccomando e che poi insomma avrete se volete proprio come dice andare a giovani però quello è più complicato non è che vengono a comando dovreste mangiare i fagioli prima potrebbe anche essere una buona idea anche quella anche quella di Andrea Giovani potrebbe essere una buona idea quindi queste sono i modi analogici sono i modi analogici per levarvi dalle palle gli fate capire che di lui non ve ne frega niente gli fate capire che di lui non ve ne frega assolutamente nulla e in questo modo vi difendete tenete presente che non c'è da fare nient'altro di più perché queste persone soprattutto le persone gelose eccetera hanno una vita tanto misera che poi infierire sarebbe come sparare sulla croce rossa no? quindi non è che dovete sparare sulla croce rossa dovete però fargli capire analogicamente che per voi loro sono una nullità sono la quintessenza della nullità e vedrete che le cose vi andranno magicamente meglio e vedrete